È l'agricoltura a pagare il prezzo più caro per il maltempo di venerdì pomeriggio a Montagnana ed intorni. In località Borgo San Zeno il vento che ha soffiato fortissimo per quasi un'ora con punte di 150 km orari, insieme alla Grandine, ha distrutto gran parte delle centinaia di serre di Meloni, compromettendone del tutto la produzione per due aziende agricole del posto, la Lora e la Molinaroli. I danni a ora sulla mia azienda sono intorno ai 250.000 euro, ma non è solo la mia azienda, abbiamo un'altra azienda qui vicino alla mia di Molinaroli e anche quell'azienda avrà un milione di euro di danni. Da dove inizio a sistemare? Se conviene sistemare, perché si butta via dieci anni di lavoro qua, stiamo buttando via dieci anni di lavoro e voglio dire, non è che viviamo negli allori. In via Saoncella, sulla provinciale che porta a Colonia Veneta, le aziende agricole e avicole che vi operano sono rimaste senza corrente elettrica fino alle 14 di oggi, dopo la caduta di due pali dell'Enel. 21 ore di blackout che avrebbero potuto decimare del tutto, per esempio, le 39.000 faraone allevate in questa azienda. Animali, che dice il titolare Daniele Zonato, dopo mezz'ora di buio muoiono di panico. Il gruppo elettrogeno è obbligatorio, oltre che salvifico. Lungo la via diversi rami di alberi avevano bloccato la viabilità, sono stati residenti ad anticipare il lavoro dei pompieri, arrivati appena possibile verso sera.